musica bella a tutti ragazzi e ragazzi e benvenuti a questo nuovissimo video oggi siamo su minecraft dungeon allora, questo è il primo video di questa nuova serie che durerà non so all'incirca quanto ma vedremo allora, vediamo un po' intanto vi presento un po' il mondo mi raccomando iscrivetevi al canale e attivate la campanellina così e lasciate like così vedrete ancora questa nuovissima serie adesso vi faccio vedere un po' mi giro un po' intorno ecco, questa è la casa raccogliamo tutte le cose con il cambio controller ok allora innanzitutto spacchiamo sotto perché innanzitutto qua nelle skyblock normalmente bisogna scavare per appunto tagliare la legna andiamo eh, sistemerò l'audio in questi giorni perché non si sente l'audio del gioco non so perché però vi prometto che nel secondo episodio si sentirà qualcosa dal secondo episodio in poi si sentirà qualcosa adesso poi lo sistema perché non capisco perché non si sente boh tutta la vita così ah, niente aspettami eh stavo già facendo una catetta stop per uccidermi ok 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 è già notte ok ok posso neanche girare per l'isola non so quando uscirà questo video quindi non so niente mi spiace allora shift-mg è piazza ok perfetto un'ultimo eh ok mi sospetto il conto no oh ok ok vedete ok perfetto wow che bravo che sono guarda eh se casco giù adesso è il colmo ecco sbetter block allora in teoria dovrebbe stare la terra la teniamo perché mi servirà tagliamo la legna purtroppo adesso il gioco è un po' lento comunque la poi esploreremo tutte le isole e tutto faremo poi usciranno comunque delle nuove serie o in mente già altri giochi mentre la posso un attimo ok perfetto albero distrutto adesso rispacchiamo tutti i blocchi per scendere ovviamente perché io ho sbagliato devo tagliarlo prima l'albero ok in teoria ne abbiamo sei perfetto sei blocchi di legno e questi li mettiamo in saccoccia aspetta no guardiamo una roba delle isole cos'è quello là? c'è qualcosa laggiù calma e te piscuano casca giute wow cos'è? facciamo stare io comunque come vedete in basso ho il gioco in inglese perché boh così mi piace il gioco in inglese allora pane lava e mi serve mi serve acqua e ghiaccio eh sì l'acqua e ghiaccio eh 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 lava e ghiaccio ecco e sapling ah intanto distruggo un po' le foglie vabbè da chi se ne frega può fare la sua terra cobblestone generator come si fa il cobblestone generator? tac blocco di ghiaccio buchino perché così l'acqua può cadere giù poi uno due tre quattro cinque sei perfetto allora va là va va di là l'acqua va spaccata no allora non funziona ho sbagliato i calcoli eh ho sbagliato aspetta fammi capire il buco va fatto più avanti mi sa se non ricordo male ma di che non mi ricordo le vacca non mi ricordo non mi ricordo come si fa non mi ricordo porca miseria forse ce l'ho forse vai mi ricordo ok forse ce l'ho vai allora qua va chiuso togliamo il pezzo di cobblestone con il piccone ok la lava si espande questo si fa no ho mancato il buco non ho fatto il buco porca puttana sono in dimentic qua oh figa se ecco buco lì acqua qua e in teoria il cobblestone generator dovrebbe cadere proprio lì allunghiamo un po' la base perché sennò casco giù veramente non va perché non va ah perché c'è la cobblestone ok allora aspetta chiediamo per sicurezza ok ora spawnerebbe lì perfetto che magia boh la prima isola la potremmo andare anche lì dopo quella piccolina lì tanto che faccio l'isola un pelino qua la ingrandisco comunque devo mettere un albero adesso ragazzi se non metto un albero sono proprio una merda allora allunghiamo di qui mettiamo qualcosina di qua e due di qua boh allora questo l'abbiamo fatto l'albero lo piantiamo via ok what the fuck what the fuck dammi i miei pezzi di cobblestone ok grazie dai dammene uno oh mi stiamo scherzando dammene uno oh me l'ha giucciato ma che bastardo ok vai 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 avanti e indietro avanti indietro avanti indietro allora va facciamo una crafting table con un eh qua bisogna usare legno perchè non ho presi due ma porca miseria allora ok si è sempre qua e devo andare ok fatto fatto prendiamo questo mettiamo qua ok perfetto ora eh mi ricordo cosa devo fare ah ok eh i slab mi piace i slab no non devo fare i slab no devo fare i slab eh no non mi no 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 si 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 sono indecisa si si gli slab si gli slab allora mmm prima ancora un po' di cose ho detto quanto le vedi ok ok allora copriamo la lava così almeno i blocchi non vanno sopra ok e copriamo anche l'acqua perchè così per sfizio no allora ok così va meglio spacchiamo gli ultimi due e ne abbiamo solo due di blocchi quindi ne metteremo uno dietro e uno giù tipo un altare sembra che funzioni eh no 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 via facciamo così teniamo un blocco così giusto per allora io intanto sto valutando l'opinione di intanto che spacco la cobblestone di andare sulle isole facendo gli slab come questi qua che ho usato per la farm diciamo automatica tra virgolente userai questi blocchi si quelle lì si pare che così almeno risparmiamo la cobblestone e non devo sempre fare i salti qua ok allora spacchiamo gli ultimi pezzi di foglie mi dice che c'è l'albero allora cosa facciamo ah no inizio tutto mettiamo un blocco qua perchè così almeno se spacco non ho la terra almeno e questo qua lo mettiamo sbagliato qua allora sono deciso se devo andare forse vado in quella lì davanti a me quella fatta tutta di andesite credo che sia andesite poi non lo so se è fatta di andesite allora secchio d'acqua ok 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 eh no cazzo porco 2 perso tutto no com'è ma che cazzo ma non c'è niente qui cioè sono traumatizzato perchè qui non c'è un cavolo e perchè ho perso tutto no scusami fammi scavare prima qua poi vado a vedere se c'è qualche cosa attiva non lo so io ho usato i comandi della mappa quindi adesso voglio vedere secondo me è impossibile che conosciti cioè mi hai fatto andare in un'isola dove non c'è niente se la va aspetta vado a toglierla aspetta vado a toglierla attiva i trucchi toglierla non c'è niente ok perchè cacchi riso campanellina e lasciate like presto uscirà la parte 2 quindi vedremo noi ci becchiamo a un prossimo video e a un prossimo episodio però non c'è niente non c'è niente non c'è niente non c'è niente